Il progetto si rivolge a 10 donne italiane e straniere tra i 18 e i 60 anni che in questo momento sono inoccupate. Abbiamo già fatti i colloqui di selezione, abbiamo selezionato appunto 10 donne, la maggior parte italiane e alcune straniere con una storia di una violenza estremamente ferrata, tutte quante sono senza lavoro, tutte quante hanno bambini, tutte quante hanno un estremo aiuto. Staremo insieme all'incirca un anno in cui queste donne saranno supportate da tantissimi punti di vista attraverso il sostegno psicologico, un percorso di gruppo che lavorerà sull'autostima e sull'auto-efficacia e sulle dipendenze affettive che poi sono questi problemi che tengono unite queste coppie. Poi faremo tutta una formazione tecnica, l'inglese, l'informatica, piuttosto che saper fare un curriculum, per presentarsi a un colloquio di lavoro, gestire i problemi, gestire i conflitti. Sarà fatta una specie di maternace a 360 gradi con queste donne per reinserirle nella società più allargata, più ampia.